Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi vedremo che cos'è l'epica e soprattutto le caratteristiche dell'epica classica. L'epica deriva dal termine greco epos che significa parola, discorso, racconto ed indica la narrazione poetica in versi delle imprese gloriose, straordinarie di un popolo, dei suoi eroi, dei suoi dei. Tutti i popoli antichi hanno sentito l'esigenza di tramandare ai posteri le memorie del proprio passato riguardanti le vicende della patria e le gesta gloriose degli eroi locali. Questi canti di tipo epico, pur presentando una realtà spesso trasfigurata, idealizzata dalla fantasia poetica e popolare, costituiscono un vero e proprio fatto culturale, in quanto rispecchiano gli ideali e i valori, religiosi, morali, civili, sociali, politici, del gruppo sociale o del popolo cui appartengono. I canti celebrativi, nei tempi antichi, venivano trasmessi oralmente, di generazione in generazione, da poeti-cantori, detti aedi o rapsodi, che nelle corti, nelle piazze, nei villaggi e nelle città recitavano le loro composizioni accompagnandosi con strumenti musicali quali la cetra o la lira. Solo più tardi questi canti, che costituirono l'antichissima tradizione epica popolare, si unificarono per opera di grandi poeti, in veri e propri poemi, come nel caso dell'Iliade e dell'Odissea, poemi greci attribuiti ad Omero. I poemi epici più antichi risalgono quindi alla civiltà greca, e sono appunto l'Iliade e l'Odissea. Nei secoli successivi, il poeta latino Virgilio, nel suo poema Eneide, si ispirerà ai testi omerici, seppur introducendovi elementi diversi ed originali. Anche in età medievale, i poemi epici ebbero vasta diffusione, in particolare quelli del ciclo carolingio, nel quale si celebrano le imprese di Carlo Magno e dei suoi valorosi paladini, e quelli del ciclo bretone, che narrano le avventure di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Nell'età del Rinascimento, nel XVI secolo, i poemi epici ebbero grande sviluppo, come l'Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, e la Gerusalemme Liberata, di Torquato Tasso, frutto dell'invenzione di autori affascinati dal mondo della tradizione cavalleresca. I principali temi dell'epica sono Il viaggio dell'eroe protagonista, inteso come desiderio di avventura, di nuove conoscenze o come missione da compiere. La guerra, per la conquista di un nuovo territorio o per la difesa della propria patria. Al tema della guerra si collegano anche altri temi, come il coraggio in battaglia, il desiderio di gloria, il disprezzo per la vigliaccheria, il dovere di vendicare i compagni morti e di rendere onore ai caduti. L'amore, che può recare felicità, benessere, ma anche tormento e dolore. Il magico o il soprannaturale, rappresentato da esseri dotati di poteri magici che possono ostacolare o aiutare l'eroe protagonista. Ma che cos'è l'epica classica? Quando parliamo di epica classica, ci riferiamo ai poemi epici del mondo classico, cioè greco e latino, nello specifico all'Iliade, all'Odissea e all'Eneide. Le principali caratteristiche di un poema classico sono il carattere celebrativo della poesia. In tali poemi, infatti, vengono celebrate le imprese gloriose di eroi, esseri eccezionali di origine umana o divina o semidivina. La presenza di tre parti fondamentali. La prima, il proemio, ossia una premessa al racconto vero e proprio contenente l'invocazione alla musa ispiratrice e l'esposizione sintetica dell'argomento che verrà trattato nell'opera. La seconda parte è lo svolgimento, ovvero la narrazione dei fatti. Infine, abbiamo la catarsi, che si riferisce alla conclusione della vicenda. Altra caratteristica dell'epica classica è la presenza di un eroe protagonista, ossia di un personaggio principale, dalle caratteristiche fisiche e morali ben delineate, che si distingue da tutti gli altri per la grandiosità delle sue azioni e dei suoi comportamenti. È il caso di Achille nell'Iliade, di Ulisse nell'Odissea, di Enea nell'Eneide. Poi troviamo la presenza di un antagonista, ossia di un avversario, un personaggio di ostacolo, contro il quale il protagonista deve inevitabilmente scontrarsi per affermare la propria superiorità e quindi celebrare il proprio trionfo. Così Achille dovrà combattere contro Ettore, Ulisse contro i Proci, Enea contro Turno. Infine, la presenza degli dèi, che giocano un ruolo determinante nelle vicende. Dominati da sentimenti e passioni umani, ora aiutano gli eroi, ora li ostacolano, ora impediscono che certi avvenimenti accadano, ora invece ne favoriscono il compimento. L'Iliade e l'Odissea sono i più antichi poemi del mondo classico e senz'altro i poemi epici più famosi della Grecia antica. Sono caratterizzati da un particolare tipo di verso molto musicale, detto esametro, che rievoca il ritmo dei canti orali da cui questi poemi hanno avuto origine. L'Iliade, il poema della guerra di Ilio, città chiamata anche Troia, e l'Odissea, il poema delle avventure di Ulisse, chiamato dai greci Odisseo, costituiscono degli importanti documenti della società greca antica, in particolare della civiltà micenea, fiorita in Grecia fra il 1300 ed il 1000 a.C. per opera degli Achei. La tradizione attribuisce ad Omero l'Iliade e l'Odissea. Ecco che cosa scrive a proposito di Omero uno studioso contemporaneo. Che alcuni abbiano negato la persona di Omero, pur dovendo accettare la realtà dei poemi che portano il suo nome, è fatto risaputo. Tuttavia, dobbiamo ammettere l'esistenza di Omero, perché ce lo impone l'innegabile realtà della sua poesia. Si suol dire che di lui non sappiamo nulla, ma è il più bugiardo modo di esprimersi che si possa immaginare. Di Omero non sappiamo la nascita, solo perché undici città si contesero fin dai tempi remotissime l'onore di avergli dato i Natali. E poco conta che egli abbia visto la luce a Smirne o a Rodi, a Chio o a Colofone, ad Argo o nella stessa Atene. Lo si disse ben presto orfano di entrambi i genitori, e poverissimo e infelice. Aprì una scuola nella sua città, dove si insegnavano lettere e musica. Un mercante, mente di Leucade, lo portò con sé per fargli conoscere il mondo, e Omero vide molti paesi, e fu anche ad Itaca, dove lo afflisse una prima malattia agli occhi. Ristabilitosi in un viaggio a Colofone, ebbe una ricaduta, e fu cieco per sempre. Ma perduta la vista, egli non cessò di vagabondare, ottenendo spesso più gloria che pane, finché nell'isola di Ios si fermò del tutto e morì. Egli di certo visse molto tempo dopo la guerra di Troia. Non si sbaglierà di molto, quindi, ponendolo tra l'undicesimo e l'ottavo secolo avanti Cristo. Ma l'Iliade e l'Odissea sono da attribuirsi ad un unico autore, Omero, oppure ad autori diversi? È questo il grande interrogativo della questione omerica. A partire dal XVII secolo, i due poemi omerici suscitarono tra gli studiosi un vivace dibattito. Si giunse a dubitare di tutto, perfino della stessa esistenza di Omero. Emersero sostanzialmente le seguenti posizioni. La prima, l'Iliade e l'Odissea sono opere di un unico autore, ovvero Omero. La seconda, l'Iliade e l'Odissea sono opera di due autori distinti. Omero compose solo l'Iliade, mentre un altro grande poeta, in un'epoca successiva, compose l'Odissea. La terza posizione, che l'Iliade e l'Odissea siano opere di parecchi autori che composero separatamente canti epici tramandati oralmente per molto tempo e messi insieme in un secondo tempo da un anonimo raccoglitore. Oggi, comunque, la critica è concorde nel riconoscere nell'originalità di impostazione dell'Iliade e dell'Odissea, nella loro coerenza e nella loro efficacia poetica, la sicura mano di un artista geniale che nulla vieta di continuare a chiamare, secondo la tradizione, Omero. Grazie.